Una buona serata e bentornati ad Agenda Italia. Allora iniziamo, apriamo una nuova settimana insieme quest'oggi, tornando a parlare di immigrazione, in particolare tornando alla scorsa settimana quando i ministri degli interni e della giustizia dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo a Lussemburgo che prevede la sospensione dell'applicazione del trattato di Schengen per un periodo di sei mesi, tutto questo prorogabile per altri sei mesi in caso di pressioni migratorie eccessive. Si tratta di una misura di eccezionale gravità tanto per l'Italia quanto per l'Europa, sia per la sua sostanza, sia naturalmente per il modo in cui è stata presa, non c'è stato per esempio nessun dibattito parlamentare. Quest'oggi noi dunque partiremo da qui, parleremo però anche del CIE di Trapani, il CIE è il centro di identificazione ed espulsione di Trapani, uno dei più nuovi fra l'altro in Italia, costruito e attrezzato dopo l'ondata della scorsa estate, ricorderete, che portò per esempio sulle coste di Lampedusa centinaia di migliaia di cittadini stranieri. Allora vi presento subito il nostro studio, iniziare dal direttore di Agency Europe, che ringrazio Gian Piero Gramaglia, buonasera, grazie per essere con noi e poi la portavoce dell'associazione Migrare, Shukri Said, buonasera e grazie per essere con noi. Gramaglia, che cosa è accaduto la scorsa settimana? Perché io ricordo che nei mesi scorsi già si era parlato di questo, c'era stato un incontro Berlusconi-Sarcosì al tempo, quando entrambi erano ancora uno Presidente della Repubblica Francese e l'altro Presidente del Consiglio, dove si accennò a questo. Poi la scorsa settimana la decisione è stata presa? Sì, in realtà anche se mi rendo conto che spiegare le cose comunitarie a un che di barocco istituzionalmente, quello che è accaduto è abbastanza complicato, nel contempo meno drammatico di come a prima vista può apparire. Però ricostruiamo un attimo la vicenda. Siamo, come tu giustamente ricordavi, nella primavera dell'anno scorso, la primavera della primavera araba, l'arrivo sulle coste italiane di migranti, gli allarmi lanciati dal governo italiano, esodo biblico, mezzo milione, un milione, due milioni di persone in arrivo, ne arrivarono 43 mila l'anno scorso, solo per contestualizzare le affermazioni, gli annunci con la realtà. Ovviamente questi annunci preoccupavano l'Italia, ma preoccupavano anche i partner europei che ovviamente temevano di essere a loro volta oggetto di una invasione di seconda o di un'ondata di migrazione numerosa di secondo livello. Cosa fanno l'Italia e la Francia? In un primo tempo litigano fra di loro, perché molti dei tunisini in particolare che arrivavano desideravano in realtà andare in Francia. La Francia applicando le regole di Schengen che lo prevedevano, istituisce dei controlli alla frontiera o comunque attua dei controlli alla frontiera per limitare o per intercettare il flusso dei tunisini che per passare in Francia dovevano avere almeno 20 euro, di che sussistere è un documento, molti non erano in grado di produrre né l'uno né l'altro. Insomma, Italia e Francia litigano invocando entrambi l'intervento dell'UE. Berlusconi e Sarkozy fanno più o meno la pace su questo argomento a Roma in un vertice e entrambi investono la Commissione europea della necessità di affrontare il problema. La Commissione europea fa delle proposte di lì a due mesi, la commissaria Cecilia Malmstrom che è svedese e che di tutto è accusabile tranne quello di non essere sensibile ai problemi dell'immigrazione perché è una delle persone nella Commissione europea più attenta ai problemi e viene da un paese che è senz'altro leader nelle politiche di accoglienza, la Svezia nell'Unione europea, presenta le sue proposte. Passa ovviamente più di un anno prima che le proposte siano esaminate e poi a Lussemburgo la scorsa settimana le proposte con qualche variazione sono modificate. Ma in realtà la modifica di quelle proposte significa che quanto prima gli stati potevano fare praticamente da soli in funzione di Schengen, potevano prendere già prima delle misure di emergenza bloccando il funzionamento del trattato, adesso sia pure con dei periodi come tu ricordavi determinati, le misure che gli stati prendono devono essere comunque inserite in una procedura comunitaria. Cosa manca? Manca la consultazione del Parlamento che prima era prevista e questo ha fatto preoccupare o irritare i parlamentari europei, in particolare ricordo delle prese di posizione mi pare del vicepresidente del Parlamento europeo Gianni Pittella che è un esponente del PD nel Parlamento europeo. Ma il cambiamento vero è quello che adesso se si interviene sull'emergenza si deve intervenire seguendo una procedura e dopo un certo tempo, che varia a seconda degli interventi che sono stati fatti perché c'è l'emergenza di migrazione ma c'è anche l'emergenza terrorismo fra quelle previste o l'emergenza grandi eventi fra quelle previste che possono richiedere degli interventi o suggerire degli interventi straordinari, dopo un certo tempo quella che è una misura nazionale deve essere sottoposta all'esame dei partner che possono dire no. Certo, è chiaro, Gramaglia, tanto per spiegare ancora meglio a chi ci sta seguendo di che cosa stiamo parlando. Questo significa, per esempio, se domani dovessero essere sorpresi dei barconi a largo di Lampedusa, a quel punto cambierebbe anche il modo di intervenire nel soccorso delle persone presenti? Innanzitutto, se vengono sorpresi dei barconi che sono in difficoltà, là è tutta un'altra questione, c'è la necessità di intervento umanitario per le persone e anzi, proprio recentemente sia il Consiglio d'Europa che le istituzioni comunitarie hanno avviato una procedura contro l'Italia, contro Malta, contro la Spagna mi pare e forse anche contro la Grecia, ma questo lo dico con prudenza, per una vicenda di 63 immigrati naufragati e morti nel Mediterraneo l'anno scorso perché non vi fu intervento umanitario a loro favore. Quindi quello, i barconi in difficoltà in mare sono un'altra questione. L'arrivo degli immigrati, ovviamente dobbiamo essere in presenza di un arrivo che costituisca un fatto eccezionale, se ci arrivano 100 immigrati al giorno e sbaccano, non è assolutamente un fatto eccezionale. E' chiaro, benissimo. Allora, Shukri Saeed, vedevo che ascoltavi con attenzione le parole di Giampiero Gramaglia, sorpresa da questa scelta dell'Europa di chiudersi anziché di aprirsi? No, scelta è sorprendente senz'altro, però ero interessata a quello che diceva il direttore. Fatemi soltanto dare il bentornato a UDEM, all'onorevole Tuati, buonasera, grazie per essere con noi questa sera, prego Shukri. Cioè, ha ricostruito dettagliatamente il problema, che per sé non è drammatico come ha sottolineato, perché comunque intervenire in caso di emergenza o quanto ci siano grandi eventi calzistici o un esodo enorme ogni sei mesi sui trattati che possono essere prorogabili altri sei mesi, se non mi sbaglio, è già previsto. Il problema fondamentale, secondo mio modo di vedere, è un altro, perché politica che anche il nostro ministro dell'interno ha aderito, questo è quello di scoraggiare, arrivo degli immigrati e dire ok non arrivate, però il problema è che se scoppia un'altra guerra a primavera araba o qualche altro paese o i stessi quelli che hanno avuto questo primavera, nulla vieta che tentano la sorte di venire da noi. Quello che noi dobbiamo pensare è che cosa Italia le farà fare in un anno o sei mesi o massimo un anno il periodo che il tonisino che ha trattato il marocchino la sorte viene in Italia, la dobbiamo tenere in CE, le diamo motivi umanitari perché Italia possono venire, Italia però ha accettato questa idea che per alleanza con gli altri, per non far venire più immigrati, dire ok però se vengono da noi come sono già venuti, che cosa noi li facciamo fare? Questo è punto fondamentale da rispondere, non sono i trattati che già avevano previsione che si devono chiudere frontiere o controllare da discutere, ma discutere una volta che sono venuti che cosa li offriamo? Li offriamo i CE che abbiamo a bene visto questi giorni o ci sono altre alternative che l'Europa propone? Questo dobbiamo dare una risposta. Una bella domanda, onorevole Tua Di, allora in che direzione va questa Europa in fatto di immigrazione? Ma io dico questo. Un'Europa che si sta fra l'altro ridisegnando, penso alle elezioni in Francia, tra l'altro ieri si è votato per le politiche e sembra che l'affermazione di Hollande sia ormai certa, nonostante poi c'è sempre quel 14% della signora Le Pen che preoccupa e non poco, prego. Penso questo, non c'è da scandalizzarsi in punta di diritto, è nella sovranità degli stati proteggere le frontiere ed è una delle prerogative degli stati, quindi di per sé non è un'aberrazione giuridica. La questione secondo me è la messa in discussione di questo spazio condiviso che è diventato Schengen, che implica da parte dei singoli stati e di tutti i partecipanti una solidarietà, una messa in solido comune di tutto quello che riguarda la circolazione dei cittadini che fanno parte dei paesi Schengen, ma anche dei cittadini dei paesi terzi. Quindi a me non per come sono andate le cose negli ultimi anni e quindi l'evoluzione delle politiche sicuritarie, tutto sommato dell'Europa non mi scandalizza, anzi trovo che presso tardi si sarebbe arrivato a questo. Noi abbiamo trasformato un capriccio elettorale di Sarkozy in una norma comunitaria. Mi chiedo perché l'Italia abbia interesse a firmare questa cosa qua? Perché se l'Italia è diventata frontiera europea e non più solo frontiera della nazione Italia, viene meno il principio di solidarietà attraverso questo meccanismo. Se l'Italia che non risulta che abbia fatto battaglia in ambito europeo per fare in modo che queste limitazioni che già esistono per motivi di sicurezza, per motivi di particolari eventi, si può, esiste già, esisteva già nella normativa comunitaria la possibilità di sospendere Schengen. Nel momento in cui c'è la straordinarietà dei flussi che esigerebbe che tutta l'Europa prendesse parte a questa emergenza, l'Italia attraverso questo voto che ha accettato si ritaglia a un posto solitario nell'affrontare questo fenomeno qua. La sorprende il fatto che non ci sia stato un dibattito parlamentare su un argomento così importante? Questa è un'altra questione, secondo me, proprio perché c'è questo governo tecnico che da un lato si visce tecnico e quindi non vuole affrontare questioni che sono prettamente politiche, dall'altro però su alcune materie tipo questa transazione e questi accordi che si stanno preparando con la Libia e questa materia qua avrebbe necessitato, secondo me, di una discussione che non dispero di dover fare in commissione affari costituzionali, spero su iniziativa del Partito Democratico, perché noi facendo, aderendo a questa richiesta dei paesi nordici, soprattutto della Francia, ma di altri paesi, noi ci ritroveremo appunto a non dover chiedere la solidarietà perché ci siamo legati le mani. Certo. Gramaglia, allora intanto volevi aggiungere qualcosa alle parole di Shukri Said? No, eventualmente rispondendo... Va bene, perfetto. No, io volevo chiederti politicamente che rischi vedi di fronte a questa scelta europea? Io vorrei un attimo, perché penso che ci sia un minimo di confusione quando si parla di dibattito parlamentare. Allora, per quanto riguarda il coinvolgimento del Parlamento europeo, perché qui stiamo parlando di una normativa Schengen, quindi di una normativa appunto a livello comunitario, non c'è stato, è stato denunciato e anzi la voce del Parlamento europeo in questa procedura è stata ridotta rispetto a quella che era precedentemente. Per quanto riguarda i parlamenti nazionali, non tanto quello italiano, beh, come ho ricordato prima, questa procedura è andata avanti per un anno, è nata da un'iniziativa italiana e i nostri parlamentari, non vivendo all'oscuro di quelle che sono le informazioni di stampa sulla vicenda, potevano benissimo sentire l'esigenza di intervenire, sollecitare, chiedere, farsi promotori di un dibattito. Cioè, se mancava la sensibilità del governo a portare il problema di fronte al Parlamento per chiedere magari un'indicazione, ci poteva forse essere un'iniziativa. Poi vorrei ancora dire che dal punto di vista politico so che, mi rendo conto, è particolarmente difficile da apprezzare e forse non è neanche granché, ma con la decisione della scorsa settimana quello che prima era un potere unicamente lasciato agli stati, il singolo stato decideva, è diventato un potere incanalato in una procedura comunitaria, cioè si è passata da una governance di Schengen affidata alla sensibilità del momento dello Stato a una governance di Schengen comunque inserita in un processo comunitario, quindi con più garanzie tutto sommato. E per quanto riguarda poi il fatto che l'Italia si sia isolata, cioè questa impossibilità di chiedere la solidarietà comunitaria nel momento del bisogno, beh anche qui l'Italia spesso e l'anno scorso nei giorni apparentemente caldi, anzi caldi, nei mesi, ci fu comunque il grido ripetuto l'Europa non ci aiuta, l'Europa ci lascia soli, ma vogliamo ricordare che l'Italia non è certo fra i primi paesi di accoglienza per immigrati, che la percentuale di immigrati rispetto alla popolazione italiana non è fra le più alti in Europa, ma non solo, che la percentuale dei richiedenti asilo che ottengono asilo in Italia, non la percentuale scusate, il numero assoluto, in Italia è un decimo circa di quello della Germania, della Francia, della Gran Bretagna ed è inferiore a un quinto di quello della Svezia, che ha 7 milioni di abitanti e noi ne abbiamo 60 milioni di abitanti. Quindi ci sono paesi europei che, almeno nei confronti dei richiedenti asilo, fanno ben più di noi e in qualche modo si fanno già carico di quest'onera e più di quanto non ce ne facciamo noi. Onorevole Tua D, che cos'è che non la convince? Velocemente perché poi c'è anche un filmato che vi vorrei mostrare, che vorrei commentare con voi. Dottor Gramaglia sa bene che l'agenda del governo non è da noi conosciuto in anticipo, in modo da chiedere preventivamente al governo prima di recarsi a una riunione del Consiglio. L'ordine del giorno, per esempio, quando si è trattato della questione Libia, quando il governo è andato a trattare gli accordi, il rinnovo, la possibilità del rinnovo degli accordi, noi abbiamo saputo 48 ore prima che il ministro si stava recando a Tripoli, diventa difficile in questo frangente. Io ricordo il governo italiano che ha minacciato l'uscita da Schengen quando il governo francese ha bloccato i convogli di treni a 20 miglia, quindi l'interesse dell'Italia non è di fare in modo che i paesi nordici chiudano le frontiere alla possibilità di una solidarietà di passaggio di queste persone, una volta che hanno ottenuto la protezione umanitaria nel nostro paese o qualunque altro titolo di soggiorno. Noi abbiamo interesse che non che sia gestita collegialmente le politiche delle immigrazioni, ma che su questo fatto concreto, che rischia di isolarci e di farci ritrovare in caso di flussi straordinari, noi insieme a Malta o a limite a qualche altro paese che si affaccia sul Mediterraneo la possibilità di non poter mandare gli immigrati, qualora avessero la protezione umanitaria in altri paesi. Io penso che su questo il governo si è data, per dirla così volgarmente, una zappa al piede. Mi riservo come Partito Democratico in sede di conversione di questa eventuale direttiva, di questa decisione enorme parlamentare che il gruppo del Partito Democratico faccia gli ammendamenti e se non ottiene gli ammendamenti di opporsi a questa possibilità. è chiaro, prego, su questa idea, sì. No, devo dire questo appunto, quello che diceva tu a Dì, che quando io facevo domanda a Italia che cosa gli farà fare, gli farà giocare dopo che ha dato protezione su Sidari ai giardini pubblici immigrati, che cosa gli farà fare di concreto? E questo è la cosa, perché Italia se non chiede la solidarietà e poi gli arriva una ondata di immigrati che vengono dal Nord Africa, che cosa gli facciamo fare se non possiamo nemmeno cadere? Questo è il punto interrogativo che eludeva questo risultato che sta dicendo. Un'altra è quello che il flusso che il direttore diceva prima, io qua sono andata due volte in Svezia adesso, 60 mila solo della comunità somala sono 60 mila in Svezia. Senza parlare di afghani, liberi, 60 mila solo di somma. E queste gran parti non escludo che abbiano passato, attraversato il nostro paese perché altrimenti sarebbe stato, vabbè hanno una fonte di spesso 2 miliardi questo anno. Vabbè comunque è facile diciamo che abbiano attraversato la penisola. Diciamo una cosa che traduce molto bene il concetto, se questa sera qualcuno vede Svezia ucraina, la nazionale svedese è molto più multietnica di quella italiana, ma di gran lunga. Infatti questo che dicevo, Svezia ha questo flusso, noi non abbiamo nessuna emergenza come è stato detto, ma comunque abbiamo dovere di chiedere collegialità come onorevole tu ha detto all'Europa. Brecludere questa possibilità semplicemente cercando di scoraggiare l'arrivo del migrante lo trovo una politica vicina, quindi cerchiamo di cambiare qualche cosa se si può. Allora qualche istante fa diceva la portavoce dell'associazione migrare, Shukri Said, non possiamo d'altronde prendere queste persone, chiuderli nei sci e nei centri di identificazione ed espulsione per 18 mesi e lì lasciarli. Allora oggi ha fatto molto discutere questo filmato che è stato messo sul sito di Repubblica, le immagini appartengono proprio a Repubblica TV, immagini che adesso noi vi mostreremo e che descrivono bene qual è l'atmosfera all'interno del CIE di Trapani. Oggi fra l'altro una delegazione del Partito Democratico guidata dall'onorevole Livia Turco era proprio lì a Trapani, ha incontrato anche le persone detenute, c'è stata anche una conferenza stampa finale, però noi vi vorremmo far vedere le immagini per farvi capire come si vive all'interno di un CIE, un nuovissimo CIE quello di Trapani, era stato aperto soltanto un anno fa, vediamo insieme. questo che sta succedendo, Milo Trapani Questa è una prigione amministrativa, un mostro giuridico che toglie la libertà fino un anno e mezzo, non perché è stato commesso un reato, ma per un illecito amministrativo. Non c'è una legge che dice che sono carceri, sono centri per persone senza permesso di soggiorno che devono essere identificate ed espulse, ma la maggior parte di loro non sarà mai rimpatriata, usciranno per scadenza dei termini con un foglio di via, se non riescono prima a fuggire. Nel frattempo hanno vissuto così. Mangiano a terra tutti i giorni, alcuni dormono col materasso sul pavimento. La mensa c'è, ma non è mai stata usata per paura di rivolte. Tavoli e sedie sono visti come un pericolo, ma fanno paura anche oggetti insignificanti, come i tappi delle bottiglie, matite, penne. Le camerate vengono perquisite continuamente. In questa stanza sono appena passati gli agenti. Il mio caso è semplice, ecco, i documenti te li faccio vedere. Mi hanno fatto il verbale che sono entrato nel 2010, che io sono residente qui da 26 anni, a Roma, a Nettuno. Mi portano a Ponte Galeria e poi mi trasferiscono a Trapani. Per quale motivo? Perché ho la ricevuta scaduta, ma non è colpa mia, non mi hanno chiamato. Il lavoro ce l'ho, la casa ce l'ho. Ma lei che lavoro fa? Io sono un pittore edile. Pittore edile? E c'ha famiglia? Certo. Dove abita? A Nettuno, a Roma. Mia moglie è polacca dell'Unione Europea. Sono morto per il mio paese. Io non esisto più. Io ho andato 2009 all'ambasciata per fare i documenti. Ero soltanto morto perché 16 anni non lo sanno niente di me. Che faccio qui? Con 61 anni. Scusami, nemmeno sono d'Africa, sono d'Europa. Che sono scherzi? A me non puoi impartiare, sono desertore. Libertà, libertà. Fuori, libertà, libertà. Fuori, non fai niente. Allora, questo è quello che accade, l'avete visto, nel nuovissimo CIE di Milo. Siamo vicino Trapani. Shukri Said. Vabbè, lei immagino che conosca bene queste, purtroppo, situazioni. Ti posso rispondere. Questo è il bello della democrazia. Noi abbiamo una bellissima democrazia che prende la gente così. Questa è la Guantanamo italiana. I italiani hanno tutto strillato dicendo che Guantanamo è una cosa scandalosa e ce l'hanno gli americani. I americani perlomeno non sono ipocriti. E hanno accettato che c'è, esiste. Noi abbiamo questa cosa che grida vendetta a cospetto di Dio. Una cosa disumana, vergognosa, umiliante. Delle persone che soltanto un illecito amministrativo malabene anche alcune di loro manco lo sanno. Io mi sono occupata di una signora russa che ha barchacciato male solo la macchina e è stata esbedita, suo lavoro, sua casa, tutto quanto. E sta su migrare Bunteo e è buttata in Russia. Questa è la bella della nostra democrazia. Questo è quello che sta succedendo. Mentre che noi abbiamo mafiosi, il Parlamento e il Senato, che vanno a lecifrare le leggi del nostro paese, vanno a sindacare i nostri diritti e i nostri godagni e quello, il nostro futuro e il futuro dei nostri figli. Questa cosa va chiusa adesso. Gravagna? Questa è direi anche una guantanamo dell'informazione italiana, perché onore ai colleghi di Repubblica che l'hanno mostrata, onore ai Udem che la riprende, ma senz'altro la nostra stampa ha parlato molto di più della guantanamo americana, di quanto non parli di queste... Ah sì, insomma, si è occupata sicuramente molto meno dei nostri... E sembra tuttora molto poco interessata a questo argomento. Io sono immagini e realtà che scopro per la prima volta, non ho per fortuna, ad un certo punto di vista, la consuetudine della rappresentante degli immigrati in Italia, ma senz'altro ne sono scioccato e... Può associarsi insieme a noi direttori di dire di chiediamo capo dello Stato di chiudere, visto che azioniste di maggioranza di governo dei tecnici. Non c'è dubbio che è una realtà che è indegna di un paese democratico e indegna anche di un paese sviluppato. Onorevole Tua Di, con questi CIE, visto che oggi c'è stata una delegazione del Partito Democratico, c'erano diversi parlamentari impegnati in questa ispezione nel centro di Milo, che vogliamo fare? Insomma, lì abbiamo sentito, ci sono persone intanto di ogni età, di tanti paesi diversi, che si trovano a vivere una situazione di detenzione poi a tutti gli effetti, senza aver commesso nella maggior parte dei casi nessun tipo di reato e restano lì per 18 lunghi mesi, un anno e mezzo, insomma, di vita preso e tolto. Io li ho visitati tutti, tutti i centri, da Trapani a Ponte Galleria a Roma, a Gradisca di Sonzo, a quello di Modena, a quello di Bologna, via Corelli a Milano, a quello di Torino. Ecco, ma poi è un paese che si chiama Italia e accettare una cosa del genere, come diceva Shukri Saida. Sì, purtroppo c'è lì, è nata sotto una spinta sicuritaria, che sappiamo bene a partire dal 2009, questo innalzamento del periodo di detenzione, una detenzione che non dice il suo nome, perché poi se fosse un carcere, se fosse stato un carcere avrebbero dovuto le garanzie e le tutelle che la legge prevede per i carcerati. Invece qui è una terra di mezzo, diciamo così. Sì, assistenza legale, visite dei parenti, alcuni canoni per quanto riguarda la residenza di queste persone. Però andando oltre le motività che ci comunica questo filmato, questo nostro viaggio nei CIE come parlamentari del Partito Democratico, ma semplicemente come parlamentare della Repubblica. Ci porta a una serie di considerazioni veloci. La prima, noi non abbiamo recepito la direttiva rimpatri dell'Unione Europea, noi non siamo tra quelli che dicono lasciamo che le cose vadano in anarchia. C'è una direttiva rimpatri, la direttiva 115 del 2008, che pone la privazione della libertà come ultima istanza per quanto riguarda il rimpatrio, dopo aver espletato una serie di passaggi che la direttiva descrive in modo molto preciso. Noi di questa direttiva abbiamo preso solo la parte terminale, la privazione della libertà e queste sono le conseguenze. Ci sono persone che stanno là dentro senza una convalide del giudice del loro stato di fermo, il che è una violazione flagrante delle garanzie previste dal nostro codice penale. C'è lo status che non è definito, non sono detenuti, sono trattenuti, però in quanto trattenuti hanno meno tutte le garanzie dei detenuti. L'altra incongruenza è che ci sono persone che hanno finito di espletare una pena, di scontare una pena e prima di essere rimpatriati passano altri 180 giorni di detenzione per essere identificati, quando il Ministero della Giustizia potrebbe mettersi d'accordo con il Ministero degli Interni perché l'identificazione sia fatta negli ultimi mesi prima della fine dell'espiazione della pena. E così possiamo continuare a elencare i punti di non diritto di questi luoghi che purtroppo continuano a esistere e abbiamo ottenuto un anno fa, no pochi mesi fa, la revoca di quel divieto fatto da Maroni dell'accesso dei giornalisti grazie alla Federazione Nazionale della Stampa che si è mobilitata. Ne parliamo anche a Udema in quell'occasione, assolutamente. Però non vi è dubbio che è un luogo di non diritto che per una democrazia, secondo me, senza essere anarchici nel dire che tutto deve essere tollerato, ma lì evidentemente c'è un problema che grida vendetta. Un problema enorme. Gramaglia, in chiusura, chissà quanto spazio troveremo per questa notizia domani sui quotidiani o questa sera per esempio nei telegiornali? Insomma queste immagini sono piuttosto forti, no? Beh, però essendo tu e io giornalisti chissà quanto spazio gli daremo, cioè non attribuiamo date. Oggi Udema gliel'ha dato, speriamo che Repubblica evidentemente glielo dà, magari anche soltanto per imitazione o per quello che noi diciamo non prendere un buco speriamo che anche altri media se ne occupino. Non credo che ce ne sarà molto, anche perché c'è appunto Ibrahimovic che gioca, magari segna pure e ci porta via un po' di spazio. Sì, però retorico a parte, siamo qui con quattro persone, ci associamo, facciamo un appello per chiuderli, possiamo farli insieme? Chiudiamo così? Beh l'appello l'abbiamo fatto e l'unicodiano assolutamente. No, no, diciamo una richiesta al Presidente del Consiglio Monti di chiudere queste vergogne, perché la democrazia non basta avere soltanto cessati, messi bene e stirati per dire che sono democratico, la democrazia è anche nei comportamenti e questo certamente non è democratico. Questo è il nostro appello, quest'oggi 11 giugno 2012, per il momento ci fermiamo qua, io ringrazio l'onorevole Tuadì, così come il Direttore Gramaglia, Shukri Said per essere stati quest'oggi con noi, a tutti voi l'augurio di una buona serata e a presto, grazie. Grazie a tutti.